Maggiore consapevolezza rispetto alle forme di violenza di cui sono vittime soprattutto le donne e più attenzione verso il corretto approccio alle relazioni di genere sono gli obiettivi del progetto Coscienza Comune che ha coinvolto studentesse e studenti di 13 istituti scolastici secondari di primo e secondo grado attraverso incontri formativi e attività di laboratorio e stamattina nella sala dei baroni del maschio Angioino sono stati presentati prodotti creativi sulle riflessioni venute dal percorso formativo. I dati della rete dei centri antiviolenza del comune che registrano 50 richieste di aiuto al mese per forme di violenza fisica, psicologica o economica dimostrano che il fenomeno è ancora molto radicato in città ed è il motivo per cui l'amministrazione comunale ha avviato a gennaio questo percorso realizzando il progetto Coscienza Comune proposto dalla consulta delle elette. Le scuole hanno scelto e approfondito una delle cinque tematiche proposte fra coscienza di sé, coscienza storica, coscienza critica, coscienza pubblica e coscienza civica. I risultati saranno messi a disposizione anche delle scuole che aderiranno in futuro.